Buongiorno, buongiorno e benvenuti al webinar Il cambiamento della piattaforma suave a seguito del rilascio della fase 3. Questo webinar è dedicato agli operatori. Sono Paola Pirani di FormXPI e vi do il benvenuto a questo evento e introdurrò brevemente il webinar di oggi. Do il benvenuto anche ai relatori Elena Marcia, Giuseppe Lonis, Salvatore Licheli di Consulta Media, SRL, che è l'RT che ha realizzato il software, esperti informatici appunto, ai quali a breve passerò la parola. Do anche il benvenuto al dottor Antonello Pellegrino, direttore del servizio semplificazione amministrativa per le imprese e coordinamento sportelli unici affari generali della regione Sardegna. Do il benvenuto anche al centro di coordinamento suave della regione Sardegna che ci supporteranno insieme al dottor Massimo Pugioni nel momento delle domande e risposte. Questo webinar, come dicevo prima, apre l'approfondimento sul nuovo sistema informativo della regione autonoma della Sardegna per la gestione dei procedimenti suave, un percorso di aggiornamento e divulgazione di due webinar con due repliche pensate per dar modo a tutti gli interessati di seguire meglio questi eventi. E questo evento, questo ciclo, è realizzato in collaborazione con il centro di competenza regionale e il coordinamento suave e fa parte del progetto Pong Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione affidata a Forme SPIA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Ricordiamo anche i prossimi appuntamenti che sono la replica di questo webinar che si terrà il 22 settembre sempre dalle 9.30 alle 11.30 e poi c'è il webinar per lato tecnici, dunque il cambiamento della piattaforma suave a seguire il rilascio della fase 3 tecnici che si terrà giovedì 17 settembre dalle 9.30 alle 11.30 e questo evento sarà invece replicato il 2 ottobre sempre dalle 9.30 alle 11.30. Questi due webinar hanno l'obiettivo di illustrare le nuove funzionalità del sistema informatico prima lato operatore e poi lato tecnici, poi per assecondare le esigenze espresse da chi usa costantemente la piattaforma suave. Andiamo brevemente a parlare del progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione che fino al 30 giugno 2020 ha svolto attività di formazione in presenza a distanza, come potete vedere dai numeri espressi da questa slide, e ha aperto 7 centri di competenza regionali per la semplificazione, ci sono state attività di affiancamento e consulenza in presenza a distanza e si sono svolte 14 indagini di monitoraggio e verifica. Inoltre continua ad avere grande successo la nostra rete, la comunità di pratica, retetagliasemplice.gov.it Questi sono i centri di competenza che sono stati attivati in Fulio Venezia Giulia, Sicilia, Calabria, Campania, Molise, Sardegna, Umbria e queste sono le tematiche dei nostri webinar e dei nostri seminari, che vanno dalla conferenza dei servizi alla normativa emergenziale dovuta anche al Covid-19, ruove SUEP, gli spettacoli di trattenimenti pubblici, semplificazione per le imprese scientificate, digitalizzazione, edilizia e molto altro. Tutti questi nostri eventi li potete trovare nel nodo Eventi PA 17455. Potete cliccare sul webinar o sul seminario di vostro interesse e si aprirà la pagina dedicata con tutto il materiale utilizzato dai docenti e anche per quanto riguarda il webinar e le registrazioni. Sono state tante le attività che abbiamo pensato in questo periodo di emergenza per dare assistenza all'amministrazione, proprio per l'attuazione e della semplificazione in materia ambientale nelle zone economiche speciali. Dunque, che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato a creare task force, team di esperti, centri di competenza, percorsi e laboratori, in modo tale da dare competenza e formazione alle nuove figure professionali dell'APA. E proprio per questo periodo di ripresa, dopo questa emergenza che tuttora ci attanaglia, questo Covid, abbiamo pensato di supportare l'amministrazione con l'utilizzo delle conferenze dei servizi semplificati, l'applicazione del silenzio assenso, la riduzione dei controlli ex ante e l'aumento dei controlli ex post e nelle pagine degli eventi che hanno caratterizzato tutte queste tematiche, che potete appunto trovare nella nostra pagina eventi plan 1.7455, potrete trovare anche un importante articolo dall'amministrazione dell'emergenza all'amministrazione della ricostruzione, responsabilità, controlli e tempestività. Andiamo velocemente al webinar di oggi, che appunto interessa agli operatori cittadini e tutti quelli che sono interessati a queste tematiche trattate. Dopo questa accoglienza e questa apertura dei lavori, ci saranno l'introduzione del dottor Pellegrino e poi l'intervento di Elena Marcias e Giuseppe Lonis, e per dare poi spazio alle nostre domande, alle vostre domande che potete tranquillamente porre in chat. Vado veloce nel parlare perché non rubo tempo ai nostri relatori e tranquillamente tutte le informazioni le troverete nella pagina di eventi. In questo appunto l'evento di oggi parla delle nuove funzionalità della piattaforma su Ape, ricordo la chat come strumento nel quale poter scrivere tutte le vostre domande e le quali troverete il mio supporto. E per finire la registrazione e le slide saranno presenti al nodo 266590, nella pagina alla quale vi siete iscritti, dunque nei prossimi giorni troverete tranquillamente la registrazione e le slide. Per quanto riguarda le attestazioni, vi ricordo che saranno attestati solo coloro che seguono il 20% dell'evento e che sono iscritti regolarmente all'evento, ma per l'attestazione ci vuole un pochino di più, anche perché siete veramente tanti in aula. A questo punto non mi resta che lasciare la parola al dottor Pellegrino e io sono in chat per il supporto. Buon webinar a tutti! Grazie, buongiorno a tutti, spero che il sonoro sia positivo, che vi giunghi in maniera chiara, eventualmente fate una segnalazione e cercheremo di fare una regolazione della piattaforma compatibilmente naturalmente con i problemi di rete che come sappiamo variano a seconda delle singole postazioni. Questo inizio di ciclo di incontri, come si diceva questo il primo di quattro che si svolgeranno fra oggi e i primi di ottobre, vedono la presenza oggi e in una prossima data di voi operatori su APE e in altre due date distinte dei professionisti e dei tecnici che utilizzano naturalmente la piattaforma. Questa giornata serve per sintetizzare e dare comunque degli elementi molto chiari, speriamo, di quelle che sono le nuove funzionalità che sono state implementate in questi mesi scorsi di lavoro che come è avvenuto per moltissime sia pubbliche amministrazioni che professionisti che privati e società naturalmente non ha visto una interruzione per fortuna delle attività stesse, ma ha visto la loro prosecuzione pur nelle difficoltà che tutti conosciamo. Non ha fatto eccezione la piattaforma su APE che ha proseguito la propria evoluzione da un punto di vista tecnologico e parallelamente, come sempre, da un punto di vista normativo. Di queste evoluzioni oggi vi verrà data una prima spiegazione, speriamo esaustiva, in ogni caso, come già detto, c'è la possibilità di raccogliere delle osservazioni e domande tramite chat e poi chiaramente rimane operativo tutto il sistema di supporto che già conoscete con la speranza di implementare lato nostro, quindi lato regione autonoma della Sardegna, la possibilità di ripristinare la funzione centralino per lo smistamento delle domande, viceversa si potrà continuare a contattare tramite i numeri che già conoscete, i singoli operatori, colleghe e colleghi di supporto. Quindi diciamo che l'attività prosegue come già l'avete conosciuta dal punto di vista dell'assistenza, per quanto riguarda invece le funzionalità di piattaforma non c'è uno stravolgimento, ma ci sono delle novità che meritano quindi una mezza giornata, una mattinata di riflessione come quella che vi stiamo proponendo, c'è stata una bella partecipazione in termini di iscrizioni, speriamo che ci sia anche come partecipazione odierna, ci stiamo avviando ai 300 partecipanti, quindi è una cosa che ci dà molta soddisfazione per la possibilità naturalmente di raggiungervi tutti. La parola chiave che vorrei utilizzare per questa mia brevissima introduzione agli approfondimenti invece tecnico-operativi che verranno è collaborazione. La piattaforma entrata nella fase della sua maturità è solida anche in confronto ad altre piattaforme di livello nazionale, questo sta a testimoniare il fatto che c'è stato un lavoro comunque proficuo, difficile, oneroso, ma comunque proficuo e che c'è stato già un elemento fondamentale che è quello su cui volevo e voglio rimarcare l'attenzione che è quello della collaborazione. Collaborazione con voi che operate nel territorio, collaborazione con i professionisti, collaborazione fra enti che è un altro degli aspetti importanti. Naturalmente ciò non è risolutivo di problematiche di natura tecnica che dovessero emergere in questa fase di verifica, però naturalmente predispone favorevolmente in maniera positiva la loro risoluzione, quindi l'appello che si vuole fare è questo. Il SUAPE ora entra in una fase di un anno di manutenzione evolutiva, questo vuol dire che non ci saranno ulteriori significative modifiche della piattaforma, potrebbe esserci qualche aggiustamento naturalmente dove dettato da esigenze di natura tecnica che dovessero emergere e naturalmente ove fosse necessaria come di consueto l'accettazione e il recepimento tradotto in termini operativi della variazione di assetto normativo generale o locale in regione Sardegna. A parte questi fatti che naturalmente verranno gestiti caso per caso, però la piattaforma ha raggiunto il suo standard operativo. Questo non vuol dire che cessano le evoluzioni della piattaforma SUAPE, questo vuol dire che però partiamo da una serie di elementi ormai consolidati e su questa base naturalmente cercheremo di intensificare con l'aiuto di tutte le strutture che stanno collaborando con regione Sardegna, sia interne che esterne, cercheremo di strutturare una evoluzione del centro di competenza in maniera che ci sia una rispondenza sempre più rapida e sempre più idonea dal punto di vista tecnologico e normativo a quelle che sono le evoluzioni del settore. Su questo, ripeto, è fondamentale la collaborazione, collaborazione fra persone, collaborazione fra enti, fra strutture e fra differenti forme di utenza della piattaforma stessa. Chiaramente poi in quest'anno ci sarà una riflessione da parte nostra, ma col vostro contributo, ci auguriamo e spichiamo, per quello che sarà l'evoluzione della piattaforma negli anni successivi, cioè dal 2022 in poi anche in considerazione del fatto che ci sarà il nuovo quadro finanziario europeo di sostegno e che da quello auspichiamo di poter attingere per eventuali, diciamo, ulteriori integrazioni ed eventuali anche revisioni importanti della piattaforma qualora necessarie. L'altro termine che ho già introdotto, sul quale volevo porre l'attenzione un po' di tutti noi è appunto quello dell'integrazione. Integrazione funzionale, anzitutto come sapete Regione Sardegna sta intervenendo in maniera importante e significativa finanziando dei progetti di integrazione a livello di back office, di cui voi sarete protagoniste e protagonisti naturalmente, perché è uno snodo per noi fondamentale della vostra attività quotidiana. Su questo c'è un investimento, come dicevo, sia in termini finanziari che in termini professionali e organizzativi da parte dell'assessorato dell'industria. Contiamo di proseguire in questo cammino facilitando naturalmente l'integrazione non solo del decoffice interno, ma anche di quelle che sono le applicazioni terze come una fra tutte pago PA. È evidente che questo aspetto va presidiato, c'è il nostro impegno come Regione Sardegna, per mandare avanti l'attività anche in questo senso. Anche su questo contiamo naturalmente su una collaborazione proattiva da parte vostra, dei vostri uffici, perché ci vengano segnalati in termini puntuali quelle che sono eventuali difficoltà, in maniera da poter, lato nostro, focalizzare in termini ottimizzati, fatemi usare questo termine un po' tecnico, in termini ottimizzati, gli interventi di evoluzione e di sistemazione. Detto questo, io passerei a mia volta la parola alle colleghe e ai colleghi che vi faranno l'esposizione tecnica di quelle che sono le novità. Comunque colgo l'occasione per augurare buon lavoro a tutti e a tutti voi e a tutti noi, visto che comunque le difficoltà non sono affatto superate, ma con molta buona volontà da parte nostra e qualche supporto continueremo a mandare avanti tutto come l'abbiamo fatto negli scorsi mesi e si spera naturalmente anche meglio, perché vorrebbe dire che l'evoluzione della situazione generale è positiva. Quindi un caloroso saluto e un augurio di buon lavoro a tutti e ripasso la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Elonis, sono il responsabile per l'RTI della configurazione della piattaforma Swap. Stamattina vediamo i cambiamenti apportati alla piattaforma per quanto riguarda gli aspetti di gestione del Swap, quindi lo sportello per gli operatori Swap e gli antiterzi. Condivido lo schermo. Quindi una volta introdotti nella finestra di login scegliamo il ruolo di operatore coordinamento Swap. Scegliamo operatore struttura Swap e lo sportello di test. Allora, vediamo subito quali sono state le modifiche apportate all'interfaccia. È stato fatto un grosso lavoro di redesign della piattaforma con la riscrittura di tutta la UI per quanto riguarda la scrivania, i fascicoli, lo scadenzario, cercando di uniformare tutte le sezioni della piattaforma in modo omogeneo e in modo tale che tutte le modalità di filtraggio, creazione di nuovi elementi, liste e azioni siano coerenti in tutti i loro aspetti. La parte di scrivania presenta subito un filtro alto nella quale sono facilmente selezionabili le pratiche assegnate a me oppure quelle da assegnare oppure tutte le pratiche. Quindi il primo filtro che inizialmente si trovava con una radio button e un clic sul pulsante filtra è stato semplificato e con un solo clic permette di passare da una vista ad un'altra. subito dopo i pulsanti di selezione della tipologia di pratiche è presente il filtro di ricerca a espansione, quindi si può facilmente aprire e chiudere e trovate l'indicazione delle pratiche nel totale. Applicando uno o più filtri e agendo sul pulsante di filtraggio, quindi confermando il sistema ora propone un riepilogo dei filtri impostati e la possibilità di deselezionare uno o più filtri impostati quindi facciamo la prova, cerchiamo delle pratiche in conferenza di servizi ad esempio lo stato della pratica da inoltratto facciamo filtra vedete il sistema ora propone il totale delle pratiche trovate in alto e poi i badge dei filtri impostati sono facilmente rimuovibili io posso cancellarli con un colpo solo tutti quindi tornare alla videata precedente cioè alla ricerca precedente oppure rimuoverne solo uno oppure aggiungerne un altro ad esempio oggetto fff filtra e ne ho provato uno quindi cliccando su un singolo badge potete rimuoverli singolarmente e questo aiuta il filtraggio le operazioni di filtro e di ricerca delle pratiche inoltre è stato aggiunto un nuovo filtro che con le pratiche lavorate o da lavorare ci muoviamo poi troviamo il filtro di iter dove possiamo vedere due nuove tipologie parere preliminare e proroga vediamo se ne troviamo qualcuno quindi poi le azioni sono rimaste diciamo immutate troviamo sempre lo scarico a pratiche vedi i dettagli e vi andiamo a vedere ora il redesign del dettaglio della pratica eccolo qua la nuova interfaccia la cosa più grossa che è stata modificata l'elemento più grosso è stato non trovate più l'avanzamento ma abbiamo la gestione praticamente tutte le azioni che si potranno fare nella pratica la trovate in questa sezione mentre il dettaglio della pratica è diventato un'area tra virgolette di sola lettura in dati generali vedete trovate il riepilogo dei principali elementi della pratica ubicazione interventi le condizioni e l'anagrafica ogni elemento è a espansione quindi permette di risparmiare diciamo la parte di interfaccia che stiamo visualizzando i moduli gli allegati e poi via dicendo gli atti e i pagamenti che in questo momento non contengono informazioni quindi non trovate più nell'area dei dati generali l'assegnazione che è stata spostata nella parte di gestione vedete assegna l'assegna a me stesso salva quindi tutte le azioni come la protocollazione l'assegnazione l'aggiunta di uno più comuni lo trovate centralizzato nella sezione gestione e sono in questa adesso aspettiamo che carichi vedete l'assegnazione del protocollo in questa sezione l'assegnazione e il tipo di procedimento la data di invio l'ufficio la sezione per aggiungere comuni alla pratica e poi lo storico degli eventi quindi tutta la cronologia delle modifiche fatte alla pratica lo trovate nella sezione gestione inoltre sono stati convertiti le spunte che trovate qua in dati generali come lavorata verificata eccetera questi sono anche qua in sola lettura e sono attivabili dalla sezione gestione un'altra sezione che ha subito importanti modifiche è la sezione comunicazioni dove troviamo una suddivisione in due in due sezioni ossia le comunicazioni inviate e quelle in bozza quindi questa nuova funzionalità ossia la possibilità di salvare in bozza una comunicazione e di poterla poi compilare in un secondo momento quindi ad esempio facciamo una prova andiamo a crearne una nuova mettiamo ad esempio questa non ho enti altri enti e salviamo quindi mi ritrovo ora nelle bozze delle comunicazioni quella appena creata posso in un secondo momento completarla e inviarla le azioni modifica e rimuovi quindi rimuovi cancello la bozza modifica posso completare il messaggio messaggio di prova la possibilità di aggiungere allegati multipli adesso mettiamo questo come esempio la possibilità di rimuoverli tutti oppure di firmarli e scaricarli singolarmente un'ulteriore funzionalità è la possibilità di aggiungere allo scadenzario la comunicazione quindi attraverso la funzionalità aggiungi scadenza inseriamo ad esempio la scadenza lunedì 21 messaggio di prova con scadenza andiamo a inviarla comunicazione inviata con successo quindi non troverò più questa comunicazione in bozza ma in quelle inviate e poi andiamo a vedere nello scadenzario ok vedete nessuna comunicazione troviamo quella nuova inviata oggi alle 9.57 se andiamo nello scadenzario verifichiamo se è stata aggiunta la scadenza eccola qua è stata aggiunta la scadenza al mio diciamo calendario delle scadenze posso in ogni caso tornare alla mia pratica attraverso il click sul pulsante dedicato poi andiamo in documenti e in questa sezione è stata aggiunta la possibilità di aggiungere dei file allegati liberi diciamo quindi un operatore l'operatore all'assegnazione quindi la gestione della pratica può caricare uno o più file da salvare in questa pratica e anche questa funzione propone la possibilità di rimuoverlo di rimuoverlo e scaricarlo quindi posso aggiungerne n andiamo a caricarne un altro quindi permette agli operatori di caricare tutta una serie di file aggiuntivi che possono ritornare utile in qualsiasi momento rimuoviamoli giusto prova non lo so se ci sono domande su queste parti oppure io passerei passerei a un tema diverso ossia la parte di modifica alle configurazioni Giuseppe volevo solo aggiungere una cosa nelle comunicazioni si è aggiunto anche l'esito per la comunicazione esatto quindi quando viene inviata esatto nell'elenco appunto viene notificato l'esito anche nella lista delle comunicazioni ed è stato aggiunto anche con una nuova comunicazione la possibilità anche in alcuni casi di compilare un modulo da parte del cittadino però se lo facciamo vedere dopo si esatto io volevo passare diciamo si esatto non lo so se qualcuno ha qualche domanda inerente oppure vuole rivedere alcuni punti oppure passiamo alle modifiche alle configurazioni quindi volevo fare una carrellata sulle modifiche alla dua alla gestione diciamo alla creazione della pratica volevo dire un'altra cosa sempre sulle comunicazioni due nuove funzionalità oltre alla scadenza che abbiamo visto poco fa è possibile anche da parte degli operatori diciamo impostarsi nella propria utenza la notifica delle comunicazioni cosa significa che andando nella sezione di configurazione del sistema nel proprio utente è possibile flaggare l'opzione di notifica adesso vi faccio vedere la funzionalità quindi andiamo nella piattaforma di configurazione nella sezione degli utenti amministrazione piattaforma allora vado nella mia utenza vedete avete l'opzione abilita notifiche pratiche ok questa opzione se spunta se flaggata quindi se l'opzione viene attivata praticamente per ogni comunicazione in ingresso al suo app o all'ufficio di ente terzo vengono inviate delle notifiche via mail all'operatore assegnatario di quella pratica quindi se il titolare della pratica invia una nuova comunicazione l'operatore assegnatario della pratica riceverà una notifica via mail di questa nuova comunicazione ok quindi niente io passerei alla seconda parte quindi alla parte della pratica della generazione della pratica se non ci sono domande su questo tema guarda intanto possiamo precisare che sono state introdotte le scadenze nelle comunicazioni ma sono state introdotte anche delle scadenze automatiche quando si crea la cds e anche in alcuni altri punti del plusso questo lo volevo specificare perché c'è stata una domanda che faceva riferimento a questa parte si sono state automatizzate le scadenze sugli ether infatti vi faccio vedere un'altra cosa era stato già presentato la volta precedente cioè nel rilascio precedente però nelle pratiche vedete endoauto ok la colonna endoauto significa che quando arrivati alla data relativamente all'iter all'invio automatico degli endo procedimenti la piattaforma se non ci sono state modifiche alla pratica il sistema invia automaticamente agli enti terzi di endo diciamo e quindi in questa colonna viene segnato come l'avvenuta automazione dell'invio degli endo allora cambiamo il ruolo tagliamo un cittadino quindi vedete l'interfaccia è comune a tutti i ruoli diciamo il redesign è stato fatto su tutte le tipologie di utenza con un'omogeneizzazione anche dei filtri di ricerca andiamo in nuova pratica e vediamo vediamo appunto tutte le attività che sono state fatte di riconfigurazione del sistema e di implementazione delle nuove funzionalità della piattaforma innanzitutto sono stati eliminati due settori importanti che prima venivano considerati come generalisti e invece sono stati poi eliminati e inseriti all'interno di tutti i settori specifici delle attività produttive i due settori sono cessazione e attività e adempiamenti accessori per attività esistenti praticamente prima erano troppo generici mentre adesso li troviamo all'interno di ogni settore specifico quindi se io scelgo il settore di autoriparatori troverò troverò all'interno di questo settore gli interventi di cui vi dicevo prima quindi l'accessazione e gli adempiamenti accessori questo cosa ha permesso ha permesso di diversificare per ogni tipologia di settore quelli che sono la modulistica specifica di quella tipologia di attività mentre prima avevamo un intervento generico comune a tutti inoltre le modifiche sempre ai settori sono state classificate in modo diverso tutte le attività aggiungendo una classificazione di secondo livello i nuovi settori sono agricoltura silvicoltura e pesca attività manufatturiere commercio all'ingrosso al dettaglio riparazione di autoveicoli trasporto e magazzinaggio servizi di alloggio e ristorazione sanità assistenza sociale servizi di informazione noleggio agilizzo di viaggio istruzione e altre attività e poi all'interno troviamo il settore di terzo livello dove posso segnalare che anche in questo caso ci sono dei nuovi settori sono sette nuovi settori e sono produzione primaria di prodotti vegetali destinati all'alimentazione umane poi abbiamo dentro attività manufatturiere abbiamo altre attività manufatturiere operanti nel settore non alimentare poi nella somministrazione abbiamo la somministrazione di elementi e bevandi presso circoli di natura privata cioè circoli privati di natura commerciale lo troviamo qua eccolo eccolo qua poi abbiamo laboratori di autocontrollo per alimenti quindi andiamo in sanità laboratori di autocontrollo per alimenti dopodiché abbiamo attività di fruizione turistica per siti minerari quindi dentro il settimo abbiamo questo nuovo settore attività legate ai siti minerari poi abbiamo anche altre attività soggette all'acquisizione di uno più titoli abilitativi e come ultimo nuovo attività di servizi temporanea in sede diversa da quella abituale in occasione di manifestazioni ed eventi questi sono tutti i nuovi settori che sono stati implementati allora c'è da dire una cosa importante ossia che tutti questi settori interventi sono nuovi perché sono stati aggiunti a una funzionalità nuova che sono le condizioni annidate quindi la possibilità di rispondere a una serie di domande a catena su una o più condizioni questo cosa comporta comporterà che una volta che il sistema verrà messo in produzione questo nuovo sistema le vecchie pratiche non sono più modificabili quindi perché basate su una configurazione vecchia quindi molto più semplificata quindi tutte le pratiche che gli operatori diciamo gli ingegneri e i cittadini non potranno più inviare le pratiche in bozza create prima delle entrate in produzione di questo nuovo sistema e non potranno neanche più integrare le pratiche già inviate ma saranno solo diciamo le bozze andranno perse e le pratiche già inoltrate saranno come dire in sola lettura non saranno più integrabili da modifiche alla modulistica presentata allora vediamo le modifiche diciamo strutturali agli interventi quindi selezioniamo ad esempio facciamo vedere il caso di un avvio di un'attività produttiva e vediamo le nuove condizioni che il sistema presenta avvio scegliamo l'avvio di produzione primaria dei prodotti vegetali vedete ora il sistema non presenta più delle opzioni singole di cui un utente poteva opzionalmente spuntare o meno le vecchie condizioni sono state dismesse e ora vengono presentate delle domande bloccanti e delle domande opzionali quindi l'utente è obbligato a rispondere a ciascuna delle domande che il sistema presenta una sorta di scelta obbligatoria che prima non esisteva quindi ad esempio il sistema propone per l'intervento selezionato ad esempio la domanda l'attività di esercitarci è soggetta a controlli di prevenzione di incendi può rispondere sì o no se rispondo sì il sistema presenta ulteriori domande quindi il sistema ora è diciamo più evoluto e permette di appunto di generare una modulistica più raffinata in base alle domande che è obbligato a rispondere quindi ad esempio posso dare no qua no ad esempio l'intervento all'attività prevede l'occupazione di solo pubblico posso dare sì e poi deve essere presentata contestualmente e la scelta di queste ulteriori risposte quindi della domanda di terzo livello presenterà un modulo nuovo aggiuntivo piuttosto che un altro oppure se risponde è già stata acquisita rispetto alla stessa non sono portate variazioni il sistema non presenterà nessun modulo aggiuntivo ma presenterà una dichiarazione nella 2 una dichiarazione aggiuntiva colgo l'occasione per appunto spiegare che la 2 è stata semplificata notevolmente con diciamo l'eliminazione di 9 dichiarazioni che prima erano sempre presenti queste 9 dichiarazioni ora sono legate alla risposta che vengono date dal sistema dall'utente in base all'intervento scelto quindi ad esempio se l'utente seleziona questa risposta relativamente all'occupazione di suolo pubblico nella 2 apparirà la dichiarazione 2 occupazione di suolo pubblico se invece risponde no la 2 non presenterà quella dichiarazione ho detto prima che le dichiarazioni diciamo non più necessarie sono 9 e sono 2 prevenzione incendi 2 occupazione suolo pubblico 2 requisiti igienico-sanitari 2 emissioni in atmosfera industrie salubri sicurezza e sui luoghi di lavoro 2 scarichi l'impatto acustico e l'autorizzazione unica ambientale quindi queste dichiarazioni sono legate alla risposta alle condizioni le vediamo successivamente ad esempio abbiamo gli scarichi che è questa la 151 l'impatto acustico la condizione 152 e poi abbiamo visto prima la prevenzione incendi la condizione 3 e via dicendo quindi come ho detto prima in base a come risponde l'utente la 2 viene presentata più o meno semplificata come esempio adesso mettiamo no in tutto così vi faccio vedere la 2 sono tutte confermate la 2 come compare adesso nella nuova piattaforma andiamo avanti siamo in attesa che salve un po' lento allora per velocizzare prendo una pratica già fatta ah ok ho perso la connessione quella non salvava faccio il login nuovamente allora prendiamo una pratica in bozza ecco qua allora vediamo la 2 allora quindi vedete 2 dettagli del procedimento profili relativa all'attività perché è una 2 produttiva questa dettagli attività prevenzione incendi occupazione solo pubblico scarichi quindi ho risposto diciamo sì a queste 3 domande le altre invece vedete non appaiono ok come esempio vediamo vi faccio vedere proviamo a farne una nuova dove mettiamo no a tutti andiamo a scegliere avvio di attività quindi mettiamo no no solo pubblico no quelle che vedete con i check sono opzionali quindi diciamo sono un'aggiunta eventuale di altri moduli e variano sempre in base all'attività che si è scelta quindi no 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 l'attività mettiamo che è esente dall'obbligo l'impatto acustico e poi no e l'intervento non riguarda impianti produttivi di piccole e medie allora scegliamo il titolare della rubrica andiamo avanti test 2 semplificata nell'oggetto allora colgo l'occasione per farvi vedere che nell'oggetto nella sezione nello step oggetto non c'è più la scelta del tipo di procedimento che ora è automatizzato e del riepilogo degli interventi scelti perché sono stati spostati a fine dopo che si compilano tutti i moduli questo perché perché praticamente il sistema ora è configurato in modo tale da generare stabilire attraverso una serie di pesi in base alle scelte che vengono fatte nei moduli il tipo di procedimento quindi non aveva più senso mostrarlo prima della compilazione dei moduli perché le eventuali scelte all'interno dei moduli possono comportare la variazione del tipo di procedimento quindi viene fatto solo esclusivamente dopo qua scegliamo per velocizzare forma itinerante ok eccola qua la 2 vedete le uniche dichiarazioni presenti sono dettaglio del procedimento profili relativi all'attività dettaglio dell'attività e attestazione del possesso dei requisiti di legge oltre ai classici note firma vedete dalle 14 dichiarazioni della piattaforma attuale si è passati a 5 dichiarazioni diciamo come esempio che ne so se torniamo alla condizione e spuntiamo una delle condizioni che ne so relative della prevenzione di incendi ad esempio mettiamo invece che no si e mettiamo che l'attività è già in possesso di cpa e scia la 2 vedrà la comparsa di una aggiuntiva dichiarazione quindi riandiamo avanti superiamo tutti gli step successivi fino ai moduli vedete è stata aggiunta una dichiarazione relativa alla prevenzione di incendi dove l'utente è obbligato a riportare gli estremi della scia relativa all'antincendio ok e questo è diciamo il grosso della dell'implementazione che è stata fatta alla configurazione adesso per esempio provo a completarlo così vi faccio vedere la la fase di riepilogo dove appare il tipo di procedimento compilo velocemente questi quattro moduli non soggette ci manca solo le 1 dovremmo aver completato ok un'ulteriore modifica in questa fase è stata quella della possibilità di aggiungere dei moduli liberi ovviamente sono alcuni dei moduli configurati a piattaforma e sono dei moduli diciamo di pubblica utilità quindi che ne so l'utente può aggiungere a questa pratica il D100 oppure la 99 quindi verranno configurati tutta una serie di moduli liberi che è possibile aggiungere appunto dall'utente in modo libero e dopo che viene compilato può procedere con la fase successiva ok quindi che ne so se ha bisogno di un D100 piuttosto che un E99 può liberamente aggiungerlo tramite questa nuova funzionalità andiamo avanti vedete nella sezione procedimento ora può il sistema calcolato che per la pratica presentata è necessario una specificazione di 0 giorni nulla vieta all'utente di fare se ritiene opportuno di modificare questa scelta ok il sistema comunque salverà le due i due procedimenti cioè quello che il sistema ha calcolato e quello che poi l'utente avrà modificato in base alle proprie considerazioni ok niente altri abbiamo detto che appunto sono stati aggiunti due nuovi flussi quindi il parere preliminare la proroga abbiamo detto inoltre che il calcolo dell'iter è automatico attraverso i pesi e niente che l'unico punto dove puoi modificare è questo non lo so se ci sono domande su questa parte se sono andato troppo veloce lo so se Massimo vuole dire qualcosa ti sto seguendo ma mi sembra che hai detto tutte le cose più importanti ovviamente lato operatore bisogna abituarsi a trovare le informazioni un attimino in un in un posto diverso come tu hai mostrato molte tutte quelle domande generali sui requisiti igienico-sanitari sulla prevenzione di incendi sul livello acustico sugli scarichi non le troveremo più nella 2 ma le troveremo nelle condizioni che poi concretamente vanno a finire sempre dentro la 2 nel senso che poi vengono vengono riportate però vengono riportate all'inizio sono e inoltre ecco un'altra cosa a volte queste domande potrebbero non essere presenti cioè ad esempio se io sto ho una pratica di avvio di attività di commercio su area pubblica in forma itinerante probabilmente la domanda sugli scarichi non la troverò proprio cioè questo è anche un po' il motivo per cui le abbiamo spostate nelle condizioni per poterle personalizzare in base a l'intervento cioè mentre fino ad ora la 2 riportava tutte quelle domande sulla prevenzione di incendi sugli scarichi sui requisiti gerico-sanitari per tutti gli interventi invece adesso che sono state diciamo trasformate in condizioni sono abbinate secondo una logica di coerenza ai vari interventi per cui quelle che non hanno nessuna attinenza con la tipologia di intervento non vengono proprio proposte ecco sì poi ho visto che qualcuno faceva delle domande però alcuni sono dei suggerimenti che come sempre prenderemo in considerazione qualcuno chiedeva chi deve attivare la funzione abilità pratiche questo è quello che hai fatto vedere prima questo dovrebbe essere questa abilità notifiche pratiche ovviamente lo può attivare uno che ha i ruoli di amministratore di sportello quindi o amministratore di anteterzo poi si chiedeva è stato inserito un modello per la trasmissione delle pratiche in sanatoria non sono stati inseriti modelli nuovi ma sono stati diciamo semplicemente razionalizzati in base alla nuova struttura dell'albero degli interventi la cosa principale è che come gli hai fatto vedere già Giuseppe intanto aspetta che attivo la webcam così mi vedete che l'utente che va a creare una nuova pratica si trova un albero si facciamogli vedere nuovamente quello si trova un albero di attività produttive che è stato razionalizzato ora questo non è tanto una cosa forse rilevante dal punto di vista dell'operatore però è importante che comunque tutti lo sappiano perché sono stati come dire raggruppati non più con un ordine casuale che quello che c'è fino ad ora che un po' è l'ordine dei moduli B ma sono stati raggruppati secondo i titoli della classificazione a teco e quindi dovrebbe essere più facile più intuitivo trovare l'attività di è stato aggiunto l'iter proroga qualcuno chiede è stato aggiunto sia l'iter della richiesta di proroga che l'iter della richiesta di parere preliminare che erano due tipologie di pratiche che fino ad oggi che hanno un inter dedicato adesso come dire si selezionava la conferenza di servizi ma non era propriamente la tipologia di iter esatto era un buon accolto poi qualcuno chiede i miglioramenti fondiari a quale attività corrispondono i miglioramenti fondiari sono delle attività che hanno una rilevanza edilizia quindi li trovo sotto intervento edilizio io adesso non ho se vai su intervento edilizio Giuseppe ma giusto per come tutte le attività credo stia sotto altri interventi bisogna incasellarlo nelle categorie che prevede della norma edilizia se non ricordo male poi dovremmo trovare una cosa tipo guarda vai giù se vediamo se riesco dovremmo trovare una cosa tipo interventi di movimento movimento terra movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola zootecnica artigianale industriale o pratiche agro silvopastorali è un'attività libera non soggetta comunicazione quindi in realtà è una tipologia di pratica che non che non prevede la presentazione di una pratica a meno che non siano presenti dei vincoli poi dipende da che cosa comprende il miglioramento fondiario perché quello è una tipologia come dire è una dicitura che è un po' un contenitore ma dentro ci può stare un po' di tutto ancora qualcuno chiede i moduli liberi che possono essere allegati vengono definiti dal sistema o può essere allegato qualunque modello si no sono configurati dal sistema cioè solo alcuni possono essere aggiunti per non dare troppa libertà alle utenze cioè i moduli proposti sono scelti in base alla configurazione del sistema poi ce ne sono alcuni diciamo generalisti che possono far comodo in qualsiasi situazione quindi sono configurati dalla piattaforma come moduli liberi ma sono pochi di 100 di 99 le 99 la 99 non sono moduli che servono per la configurazione delle pratiche perché quelli discendono dall'intervento e dalle condizioni e dalle risposte che vengono date ancora sarebbe possibile anche questo non c'entra niente con l'altro è una domanda che trovo interessante e quindi possiamo anche sarebbe possibile bloccare la trasmissione automatica nel caso in cui l'operatore su APE effettui una richiesta di integrazione allora il senso della trasmissione automatica vuole essere quello di dare una certezza anche del decorso dei termini per le verifiche noi sappiamo che la norma prevede che le verifiche sulle autocertificazioni devono essere fatte entro 60 giorni ridotti a 30 per le scie edilizie ora questo termine decorre dalla data di trasmissione della documentazione ma la data di trasmissione della documentazione non può andare alle calende greche in una pratica in autocertificazione in cui il titolo abilitativo è già in possesso del cittadino quindi ci vuole una data oltre la quale non si può andare anche se gli ho chiesto integrazioni perché nelle pratiche in autocertificazione il titolo si è già formato conseguentemente il sistema anche se il suo app chiede delle integrazioni al quindicesimo giorno comunque trasmette la documentazione perché da quel momento comunque devono decorrere i termini per le verifiche quindi la regola dovrebbe essere quando si chiede la regolarizzazione si deve tener conto del fatto che al quindicesimo giorno i endoprocedimenti vengono automaticamente trasmessi qualcuno chiede ecco di spiegare meglio il blocco delle integrazioni per le pratiche precedenti l'aggiornamento questo è sicuramente una cosa che va un po' approfondita perché cosa succede per le pratiche vecchie nel momento in cui ci sarà rilasciato l'aggiornamento praticamente con l'entrata in vigore cioè con le messe in produzione di questo nuovo nuovo tra virgolette aggiornamento alla piattaforma diventano incompatibili la nuova configurazione del sistema con la vecchia quindi le pratiche inoltrate prima della messa in produzione di questa nuova piattaforma le pratiche vecchie non possono più essere integrate perché il sistema è diverso idem le pratiche che il cittadino ha in bozza cioè deve fare in modo di completarle e inoltrarle allo sportello prima di questa nuova release quindi io ero convinto che le integrazioni si facessero sulla con la vecchia configurazione che rimaneva vabbè di questo comunque quello magari lo approfondiamo ero convinto che rimanessero le dichiarazioni nell'attuale configurazione agganciate però non possono essere più modificate modificate cioè non si può modificare una dichiarazione trasmessa vabbè questo non mi era forse chiarissimo facciamo un ulteriore approfondimento perché sicuramente la legge verrà rispettata e sarà possibile in qualche modo integrare le pratiche non è possibile andare contro la legge magari non sarà modalità standard però verifichiamo meglio perché sicuramente rispetteremo la possibilità prevista dalla legge di presentare integrazioni certo lo approfondiamo poi vediamo non so si potrà verificare a proposito delle comunicazioni si potrà verificare la venuta consegna come succede ora cioè scusa niente stavo rileggiando i miei appunti non cioè le integrazioni saranno concesse mi sono sbagliato io e non si possono duplicare le vecchie pratiche scusa ah ecco infatti mi sembrava strano scusate infatti un po' anch'io non ero non mi tornava un po' ecco non si potranno certamente duplicare le vecchie pratiche perché hanno una configurazione diversa però le integrazioni sulle vecchie pratiche rimangono possibili ovviamente ma andremo a integrare una vecchia pratica i vecchi i vecchi interventi quindi sarà possibile certo cioè quando andremo quando il cittadino andrà a integrare una vecchia pratica si troverà la dichiarazione nella vecchia configurazione ovviamente non se la troverà nella nuova configurazione però l'integrazione sarà possibile ecco infatti era proprio questo che non scusate io ricordavo che ne avessimo ricordavo che ne avessimo parlato per questo non mi non mi tornava poi non lo so se c'era qualche altra domanda oppure possiamo andare avanti non lo so che cosa manca io diciamo ho concluso l'intervento nel senso ho analizzato tutte le modifiche in corso diciamo tutte le nuove funzionalità se poi ci sono qualche domanda specifica possiamo rivedere alcuni 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 punti in particolare forse sono andato troppo veloce magari qualcuno non ha seguito oppure qualcuno si è collegato dopo possiamo rivedere alcune sezioni magari possiamo simulare la lavorazione di una pratica visto che siamo lato operatore ne prendo una da lavorare oppure possiamo anche far vedere la comunicazione nuova ad esempio di inizio lavori che potrebbe fare il cittadino ah si così per far vedere come viene generato il modulo si ok questa è una parte abbastanza nuova ma allora vediamo lato cittadino come attraverso una comunicazione può inviare un modulo dedicato quindi che ne so un inizio lavori piuttosto che un'attivazione impianto radioelettrico piuttosto che un utilizzo di rocce da scavo andiamo in pratiche inoltrate vedi i dettagli quindi adesso sono un cittadino è la creazione della comunicazione in base alla tipologia della classe scelta ad esempio comunicazione di inizio lavori edilizi ok il sistema ora oltre che consente di aggiungere degli allegati dei normali allegati quindi pdf firmati permette di compilare i moduli quindi se deve inviare un f3 può compilarlo direttamente attraverso la piattaforma online non deve più allegare il pdf precedentemente scaricato e compilarsi a manina diciamo i campi nel pdf quindi può utilizzare questa nuova funzionalità del modulo online e una volta che ha risposto e ha completato tutte le parti obbligatorie può generare il pdf firmarlo abbiamo completato tutto ok ok forse c'è qualcosa oltre completato anche la firma mario rossi salva il modulo ok il sistema mi indica che è completo posso fare genera pdf è da firmare quindi ora posso firmarlo online o offline facciamo una firma online come avviene con gli altri con l'altra modulistica diciamo quindi è stata inserita la funzionalità di compilazione dei moduli all'interno delle comunicazioni quindi ora sono disponibili l'f3 l'f38 prendiamo la procedura di firma continua esegui sto firmando il documento di firma di firma che è che è l'aprende che è la procedura di firma di firma l'aprende 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 ed non mi firma vabbè, aggiorniamo qua la funzionalità è questa firma e invia la comunicazione ok, torniamo alla sua app e prendiamo una pratica da lavorare da lavorare, filtra vedi i dettagli ok, è già assegnata, quindi andiamo a ad assegnarmela ok, ce l'ho io quindi accettiamo quindi ora tutte le azioni che possono essere fatte sulla pratica la trovate in gestione non trovate più parte in pratica come il protocollo una parte in avanzamento eccetera quindi i pulsanti per l'avanzamento dello stato lo trovate qua nell'avanzamento quindi qua in questa sezione vi segna lo stato corrente dell'iter e poi l'avanzamento trovate attraverso i pulsanti a fianco non lo so se su questa parte ci sono domande specifiche le sto leggendo le domande ma non vedo domande specifiche su questo quindi tanto d'altronde questo non è che sia poi tanto diverso a parte la veste grafica è rimasto uguale è stato, diciamo, fatto una rivisitazione grafica dell'interfaccia ma le funzionalità, gli operatori le conoscono bene sono quelle che usano tuttora l'unica cosa che si dovranno abituare appunto è le ritrovano in una sezione piuttosto che in un'altra in un'altra, certo prima gli abbiamo anche fatto vedere le comunicazioni con la scadenza va bene, quello è chiaro che il comitore di aver visto questa parte è nuova ossia la possibilità di aggiungere una scadenza quindi di segnare una data specifica questo può essere utile ad esempio quando si chiede quando si manda una richiesta di integrazione documentale che si chiede ad esempio di provvedere entro 15 giorni e se lì mettiamo la data di scadenza viene poi ribaltata nello scadenziario per avere in automatico la verifica la notazione della scadenza di quella diciamo dell'avventimento che stiamo chiedendo quindi questo è sicuramente utile quindi il 24 inviamo abbiamo messo la scadenza del 24 esatto quindi se andiamo nello scadenzario troviamo ecco qua una nota relativa a questa pratica ok quindi ho automaticamente la pratica inserita allo scadenziario qualcuno chiede che sarebbe utile anche avere le date delle conferenze assincrone e sincrone nello scadenziario ma questo mi pare che è stato impregnato sì perché quando viene creata la conferenza vengono create in automatico le scadenze adesso però con il nuovo rilascio sarà così precedentemente non era così rispondendo anche ad alcune domande dove dicono non è così sì certo non è così però sarà così quindi anche quella è un'ulteriore funzionalità poi Elena hai visto qualche domanda? poi chiedono sì chiedono se le pratiche archiviate positivamente o negativamente potranno essere riattivate ma questo non è cambiato è sempre possibile riattivare l'iter non è cambiato nulla da quel punto di vista eh poi ci chiedono se ci sono state variazioni per le pratiche in conferenza di servizi ma eh neanche qua è cambiato l'iter l'iter è sempre rimasto lo stesso sì invece chiedono se per errore inseriamo ah scusami vai vai dimmi dimmi se per errore è stato inserito un allegato o una comunicazione in una pratica possiamo annullare? allora se voi create una comunicazione e allegate un file e lo salvate in bozza senza inviarla a quel punto l'allegato potrà essere rimosso ovviamente se voi inviate la comunicazione contate che vi avrete inviate una comunicazione con una corrispondente pack quindi in ogni caso quell'allegato non potrà essere rimosso dopo l'invio si potrà inviare magari un'altra comunicazione in cui si fa una sorta di errata a corrige in cui appunto si dice che quella legata non sarà più non dovrà più essere preso in considerazione esatto qualcuno chiede se è possibile mandare il parere senza legare un file ma credo che questo sia stato già corretto se non ricordo male cioè quando se non sbaglio sì anche io ricordo che sia stato corretto però verifichiamo scusa Giuseppe cambia vai su ente terzo cioè il logatico mente terzo un attimo perché questa è una una problematica che ci hanno segnalato molto è un po' lento l'utente dopo l'inoltro della pratica può cambiare l'iter no l'utente dopo l'inoltro della pratica l'iter non lo può cambiare può cambiare può cambiare l'intervento può cambiare le condizioni se cambia l'intervento perde tutto però come modulistica non c'è più bisogno però di annullare la pratica e di ritrasmetterla come come fino ad ora quindi sarà possibile anche una modifica più radicale della pratica ma non può cambiare l'iter l'iter però gli viene suggerito questa è una grande novità del nuovo rilascio cioè mentre ora al cittadino che compila la pratica deve selezionare manualmente zero giorni trenta giorni conferenza in base alle indicazioni contenute nei frontespizi adesso il sistema diventa più intelligente e al termine del tutto il flusso di compilazione suggerisce all'utente qual è il tipo di iter corretto che l'utente può modificare però intanto glielo suggerisce allora vediamo le attuali pratiche seguiranno il flusso attuale sì la risposta è sì con le relative scadenze non cambia niente poi sei sul lato ente terzo non ti sento più giusato ok vai su endoprocedimenti endo sì sì no però qua non cercare una dove hai qualcosa che puoi fare eh 20 sì cambio 20 terzo poi 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 adesso mi pare che abbiamo risposto quasi a tutte le domande alcune qualcuno chiede perché il sistema prevede l'attività di produzione primaria visto che non è previsto per legge nessun adempimento attività di produzione primaria di prodotti alimentari sono soggetti a notifica sanitaria e in ogni caso se non c'è nessun adempimento ci sono un paio di ehm di attività jolly altre attività che non sono esattamente codificate ma se poi rispondendo alle varie domande si evidenzia che non c'è nessun adempimento come per gli interventi di diritti il sistema porta un piccolo cieco cioè non gli consente di inviare pratica perché non c'è nessun adempimento e quindi nessun modulo da compilare è possibile ma in pratica assegnata a me giuseppe non ti conviene ci sono già le tue ah ok eh sono vecchie vorrebbe una pratica eh quella era la mia vedi eh ecco questa è una domanda mi chiedono quando diverrà operativa la nuova piattaforma eh quello prossimamente eh perché non ti dà nessun nello colcidino cioè perché sono tutti miei me li sono assegnata e dovresti entrare con la mia autentica esatto non dovrebbe eh ma io io me le sono assegnata che strano però questa cosa la controlliamo però credo che sia comunque risolto il problema dell'obbligo di allegare poi chiedono relativamente alle pratiche a zero giorni trasmesse all'ente terzo è stata inserita la possibilità di archiviazione della pratica senza dover esprimere il parere favorevole in quanto non dovuto mi pare che che era previsto no? come riusciamo a trovarne una no facciamo un po' se ti aiutate no no se le vedono come interterto devi entrare con Elena cambio utenza se faccio prima vediamo vediamo nella 2 se per esempio il cittadino invia la pratica come pratica edilizia alla privato e non come soggetto giuridico da costituire o costituito può modificarlo a richiesta degli uffici l'anagrafica è già modificabile ma non è modifica non si può modificare il tipo di soggetto l'identificativo rimane se è selezionato persona fisica rimane persona fisica non lo può correggere nei procedimenti nei diritti a libera sono presenti le ricerche idriche o sono ancora etichettate come posti e vasche sono ancora etichettate come posti e vasche perché quella è la dicitura della legge hai trovato oh ecco ne abbiamo trovato una allora accetta quella quelli sono in notifica una in verifica ah scusa ecco ci sono diversi test andiamo qua ok verifica ah ecco prova a fare esito favore e segna come lavorato ecco la risposta alla domanda lo se vabbè in questo momento lo posso segnare come lavorato anche senza inviare proviamo a mandare l'esito chiaramente selezioniamo sportello non è obbligatorio mi stanno allegato ora bisogna approvare il messaggio è inviare adesso è così esito positivo seleziona sportello Giuseppe che ah si l'ha fatto comunicazione inviata con successo quindi è risolto non ce l'obbligo l'abbiamo eliminato già da qualche mese però eh per quanto riguarda gli allegati ai singoli modelli è stata prevista la possibilità di visualizzare nel modello anche gli allegati previsti nella modulistica ma che non sono stati allegati dall'utente si questo era previsto poi non l'ho testato si si è stato implementato cioè in fondo in fondo al modulo compaere l'elenco di tutti gli allegati richiesti cioè rivisti e poi a fianco a ognuno appare il nome del file che è stato creato sempre sugli allegati se vai come cittadino adesso ci sono allegati in molti qui adesso ci sono allegati no però è stata corretta quella dicitura obbligatorio o no che è tanto traeva in inganno quando e adesso si deve creare una nuova sperando di trovarne una dove c'è un qualche allegato già fatta dove c'è qualche modulo che prevede allegati ecco molti moduli ecco quella sì prendi ad esempio anche la 16 anche il b1 si va benissimo il b1 e andiamo alla fine ecco vedi qui prima ce l'ha sempre scritto obbligatorio o no e l'utente era portato a non allegare perché lo prendeva come una semplice facoltatività invece adesso è indicato in alcuni casi che questo vuol dire che non è meramente facoltativo ma non è strettamente obbligatorio sempre non è bloccante però bisognerebbe verificare se nel caso specifico è effettivamente obbligatorio ecco prima non l'abbiamo detto perché era un tema relativo al cittadino però è bene precisare ora il cittadino può allegare più file per ogni allegato richiesto quindi col più vedete è possibile mettere 2, 3, 4, n volte il file in caso in cui sia necessario allegare più file per lo stesso allegato ok ovviamente è stato inserito anche un controllo sul file quindi se il cittadino inserisce più volte lo stesso file il sistema lo blocca vedete il nome file è già stato utilizzato per altri allegati allora come è possibile visualizzare gli endoprocedimenti inseriti di default prima che avvenga la via automatico ed eventualmente modificarli ma anche se vengono modificati in ogni caso si fa scorrendo il flusso ma anche se vengono modificati la trasmissione automatica punta sempre su quelli predefiniti giusto Elena? sì esatto praticamente gli endoprocedimenti in teoria vengono definiti in base alla scelta degli interventi e alla scelta fatta nei moduli dopodichè vengono trasmessi in base a quanto definito nella normativa ovviamente se alcuni endoprocedimenti non sono necessari è possibile cancellarli anche dopo la trasmissione cioè la funzionalità è sempre attiva successivamente all'invio posso dire una cosa in merito? scusami secondo chiudo questa cosa perché qui dice talvolta l'avvio automatico avviene anche dopo che l'operatore su APE ha effettuato manualmente l'invio agli enti corretti questo secondo me capita se non viene mandata la ricevuta cioè se avanzando il flusso viene saltato lo step di invio della ricevuta viene fatta la trasmissione manuale e il sistema comunque siccome non rileva l'invio della ricevuta fa comunque la trasmissione automatica perché saltare lo step di invio della ricevuta? se uno è arrivato fino a lì tanto vale farlo ecco così esatto alcuni punti del flusso a volte vengono proprio totalmente saltati e questo è il motivo scusate ho interrotto stavi dicendo Anna? no no vorrei dire una cosa a proposito del prossimo rilascio della piattaforma perché chiedevano cosa volesse dire prossimamente allora se voi guardate nel homepage di Sardegna in breve c'è scritto che ci sarà un blocco dal 23 al 27 settembre perché ci sono due interventi importanti uno relativo alla PEC al cambio di PEC generale della regione Sardegna che ci sarà sicuramente e l'altro è proprio quello del rilascio della nuova piattaforma che era previsto per il 27 settembre non abbiamo ancora preso la decisione definitiva perché è legata all'esito finale dei test ci sarà una riunione domani però voi comunque lo pubblicizzeremo resta buona per il momento l'indicazione che abbiamo dato cioè per tutti i professionisti di completare le bozze se potete aiutarci a dare questa informazione di completare le bozze entro il 22 settembre perché se dovessero essere perfetti tutti i test il 23 ci sarà il blocco per il 27 fiamme online con la nuova piattaforma e se così fosse non potrebbero più essere caricate le pratiche in bozza quindi stiamo completando la decisione però aiutateci a difformare queste informazioni anche voi tenetene conto che ci sarà questo blocco sicuramente dal 23 forse fino al 27 se non c'è altro forse chiuderei poi in ogni caso le risposte le scriviamo le diamo anche per iscritto sia anche a domande che eventualmente fossero saltate non so Giuseppe tu hai qualcosa da aggiungere? il microfono abbiamo visto tutto se non ci sono ulteriori domande va bene così va bene Paola sì a te sì ecco c'è ancora la conavigazione dunque si fa un po' di fatica a rientrare in aula dunque se gentilmente Giuseppe togli la conavigazione grazie grazie mille allora qualche comunicazione di servizio tutte quante le domande alle quali non è stata data risposta avverrà la risposta per iscritto nei prossimi giorni la troverete sulla piattaforma stessa cosa per la registrazione nella medesima pagina nella quale vi siete iscritti vi comunico un avviso importante le iscrizioni ai prossimi webinar chiuderanno il giorno prima per dar modo ai nostri tecnici di inviare per tempo le comunicazioni delle credenziali di accesso dunque per agevolarvi nella procedura poi di accesso all'aula dunque considerate che le iscrizioni per il 17 si chiuderanno il 16 per il 22 il 21 per il 2 di ottobre il primo ottobre a questo punto non mi resta che ringraziare tutti voi per aver seguito la nostra il nostro webinar e niente vi auguro un buon proseguimento di giornata e per qualsiasi cosa potete scrivere con semplificazione buon proseguimento a tutti e grazie ai nostri relatori grazie 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 grazie